ciao ragazzi bentornati nella rubrica sportiva che veramente nessuno ha richiesto ma che io sento di voler fare perché così ci siamo detti più di una volta che volevo rendere questo canale un contenitore di ciò che sono io e di quelle che sono le mie passioni e le quali passioni non si limitano ovviamente solo a videogioco e io vorrei tanto poter parlare di risultati sportivi di performance sportive ma ultimamente stanno accadendo delle cose che veramente mi stanno facendo sempre di più allontanare da un certo tipo di sport ovviamente non abbandonerò mai completamente perché sono ormai troppo è tutta la vita che seguo calcio non anche se lo schifo che sto provando in questi ultimi anni è incredibilmente alto posso raffreddarmi come già mica mi capita già adesso posso fregarmene spesso e volentieri ma non completamente abbandonare lo sport in sé per sé lo sport calcio e quindi ci tocca parlare di quello che è successo l'altra sera juventus inter ma non tanto della partita in sé purtroppo perché mi sarebbe piaciuto poter commentare la partita dicendo magari appunto che si sono scontate due squadre non completamente a posto una juventus che lascia sempre troppo spesso l'iniziativa all'avversario cercando di colpire in un contropiede che non è mai così reattivo come dovrebbe e che vive spesso e violentieri di episodi di singoli o di piccoli eroi da parte di avversari che riescono ad essere ben capitalizzati o da appunto di unità che in un momento veramente complicato della propria stagione con l'allenatore in bilico che è evidentemente cercato di dare un po più di spirito ai suoi cercando di tirare fuori il possibile per per la partita contro la juventus sempre molto sentita da parte di entrambe le squadre che comunque ha dato vita a uno spettacolo abbastanza non troppo bello a livello calcistico con un possesso palla veramente sterile pochissime azioni appunto due squadre che vivono di episodi da un po di tempo tra l'altro l'inter neanche positivi però non dobbiamo parlare di questo purtroppo non parlare di quello che è successo a fine partita e e di tutto il corollario che ci sta intorno perché purtroppo per l'ennesima volta io mi trovo qui a provare un senso di vomito nei confronti della società che sta intorno a questo sport partiamo con ordine il fallo di mano di bremer bremer e io ho visto due volte perché la ripresa di mediaset ha fatto vedere in diretta due volte io non sono riuscito a capire esattamente se l'ha preso meno avrei voluto un paio di riprese di rallenti in più come sono stati fatti vedere mostrati in inter juventus di campionato con il fa il tocco non tocco di mano di rabiot e il possibile magari fallo precedente di kostic con un rosso che doveva essere a mio avviso combinato a a lucaco per l'intervento non ha senso in nessuna in nessun campionato su gatti e il rigore appunto battuto è realizzato da lucaco al 95esimo anche lì non ho capito perché nonostante esultanze afferugli risse e tutto quanto accaduto non ha recuperato i minuti persi da entrambe le squadre non lo so fanno tanto si spalla tanto di tempo effettivo di gioco poi quando fa comodo quando non c'ha voglia o quando come in quel caso l'arbitro aveva perso la partita completamente perché al primo scontro un po' forte rientravano tutti in campo a menarsi ha deciso di farla finita lì ma non funziona così non funziona non dovrebbe quanto devono funzionare così parliamo di di appunto corollare che è successo risse quant'altro richieste di scuse allora partiamo da un presupposto io non sono qui a difendere il razzismo sia chiaro non sono qui a ergermi a difesa degli ultras che per quanto mi riguarda andrebbero cancellati io sono sempre stato molto chiaro non so quante volte l'abbia detto su qui sul canale ma lo dico in questa in questa occasione per me gli ultras vanno eliminati a livello proprio di tifo organizzato così organizzato no perché si crea tutta una una meccanica di clan di esclusività degli altri di anche mezzucci la juventus stessa ha denunciato più volte che veniva ricattata da infiltrazioni mafiose perché poi quelli sono gli ambienti dove la mafia dove il malaffare entra e quindi ma andrebbero eliminati tutti se per me non ci dovrebbe essere curva non curva ci dovrebbe essere semplicemente la gente che va allo stadio di fare la propria squadra e trova il biglietto dove dove trova appunto quindi no ultras liberi no che la roba lì per me è proprio non sono quel tipo lì e non sono più a difendere quei x quelle x persone che si sono tra l'altro pure mongoli ripresi mentre urlavano epiteti razzisti con i classici ululati e insulti proprio a lukaku non sono qui a difendere questo ma sono qui a denunciare il fatto che purtroppo per l'ennesima volta la società c'è tutto ciò che sta intorno a una partita di calcio quindi la stampa la federazione la lega si sveglino solo in occasioni non ben precise perché sembrerebbe complottista ma quando ci sono di mezzo determinate situazioni e non si bene capisce perché se non facendo tutti i re dopo pensieri complottisti che io non voglio fa io non voglio fare non mi interessano non li voglio fare non mi interessano non sono non sono io e veramente non c'ho proprio voglia c'ho troppo vecchio per sé stronzate qualcuno no ma io sì non è normale che in una situazione come quella di ieri dove l'epiteto razzista gli epiteti sono stati lanciati ma in diretta televisiva non si sentivano mentre spesso e volentieri purtroppo si arrivano a essere ascoltabili tramite la regia banalmente quelli insulti territoriali e quant'altro si sentono tranquillamente nessuno si alzi veramente a dire basta con questo razzismo perché quello che sta succedendo richesse di scuse da parte della juve sono assolutamente fuori luogo perché se c'è una società in italia che agisce veramente contro questo contro questo mal costume è la juventus che avendo lo stato di proprietà alle telecamere e può vietare a delle persone di entrare nel suo stato di proprietà perché casa sua io ti posso vendere biglietto ma te che hai fatto questa roba qua ti elimino non passa nemmeno il danno c'è il daspo non serve il daspo vengono quello può essere fatto poi dagli organi e deve essere fatto dagli organi di giustizia per impedire a queste persone andare in tutti gli stadi dove non c'è la proprietà del dove c'è la proprietà dello stato qui non ha diventato neovete stadio ma nell'alnia stadio no non c'è bisogno agisce la juventus era sempre fatto l'ha sempre fatto anche i cori razzisti quei due deficienti che hanno insultato magnan eliminati dall'oriente stadio dall'alnia stadio senza nessun problema senza che nessuno alzasse la bandiera del basta questo razzismo io questo discorso di prostituzione intellettuale e utilizzo la frase che ha proprio coniato l'allora tecnico dell'inter a giuseppe morigno che per quanto in quel periodo storico mi stesse molto antipatico e che sicuramente l'ha detto un po per aizzare le masse aveva un fondo di verità e lo ha tuttora purtroppo i media sono spinti spesso e volentieri da quello che tira di più in questo momento c'è una precisa non c'è un preciso momento in cui gli organi le istituzioni del nostro calcio sia nostre che europee hanno nel mirino la juventus perché ora uno può dire quello che vuole no si può dire veramente tutto io sono aperto lo sfottò potete scrivere quasi quello che volete sotto qui nei commenti però c'è un limite a tutto alla decenza soprattutto io non io non voglio credere che sia solo la juventus che abbia fatto un determinato tipo di operazioni che non sono nemmeno illecite ma sono semplicemente un po furbette quando abbiamo l'unico esempio che vi tiro fuori che la capolista di questo campionato che sta dominando campionato da settembre a oggi ha nel suo capo cannoniere di squadra e capo cannoniere della serie a un giocatore che è stato acquisito tramite una compravendita illecita che non illecita che è irregolare in quanto come ben sapete casa osimena è tuttora aperto e verrà gestito solo dopo campionato chiuso perché giustamente hanno pensato che la giustizia sportiva deve essere celere ma non sempre anche lì è sbagliato ragazzi è sbagliato ora arriviamo anche a una conclusione di questo discorso che non voglio che venga previsto come lo solito diventino che si lamenta ma io sono uno sportivo un tifoso di calcio che si lamenta della situazione terribile perché è una veramente una roba indecente in cui abbiamo caputo il capo cannoniere che non dovrebbe essere banalmente non dovrebbe essere dove essere al lione al lille scusatemi da dove 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 è stato acquistato dalla napoli tre anni o sono se non sbaglio e io sinceramente non capisco come questa cosa non susciti la stesso non scaldi i cuori di non dei tifosi perché ragazzi i tifosi faranno sempre i tifosi un tifoso giuventino non guarderà mai se non l'aver l'inter sempre che ruba minas i tifosi interista i tifosi sono i tifosi è normale ed è giusto che siano così se sotto qui nei commenti leggerò dei commenti da parte di voi tifosi dicendo ma tanto avete rubato vent'anni 25 calcio ci sta perché siete sono tifosi siamo tifosi e lo sfottò finché nell'ambito della normalità ci sta ci sta a mio avviso ci sta sono i giornali e negli ultimi vent'anni da giornale sono diventati giornalai senza offesa per chi fa quel lavoro però chi fa giornalario non pretende di scrivere un giornale in realtà chi scrive un giornale in questo momento non ha abilità di farlo a mio avviso quasi tutti la stampa veramente quella di orrendo di deprimente e sono proprio loro che dovrebbero cambiare registro loro e gli organi e dal calcio eccetera perché così sembra che ogni volta che succeda qualcosa con di mezzo l'agrivento sa che stupido è anche stupido anche banale anche in cui la società non c'entra nulla come appunto un coro razzista che non è stato lanciato dallo speaker dello stadio diventi un caso di l'esa maestà nazionale in cui federcalcio lega no qua basta ragazzi ragazzi ma quando capitava agli altri e gli altri non intendo solo come leggo perché poi veniva che questo cosa come leggo capitava costic a quelli della juventus marca altri calciatori di altre squadre che magari però succedono in ammina in altre partite in cui non fa notizia dirlo no cazzo scusatemi no no perché non funziona così perché il giornalista deve riportare la notizia punto non può scientemente che lo capisco che non sono nato ieri l'ambito youtube rispecchia molto quello che è la stampa a livello di cercare il contenuto che spinge di più la gente a guardarlo io non sono completamente scemo o ignorante di questa cosa però così è troppo così a mio avviso è un po troppo sia da una parte che dall'altra la stampa dovrebbe essere ok ci può stare l'articolo un pochino più spostato perché il giornale di torino quello di milano va bene ma dovrebbe avere a mio avviso un occhio di riguardo non di parte ma di delle faccende che avvengono a milano oa torino quindi se uno vuole essere informato su qualcosa un pochino più diciamo approfonditamente sulle pressioni della juventus legge tutto sport del milano di inter legge corriere della sera della roma legge corriere dello sport cioè quello non giornali che aizzano le folle perché qui siamo arrivati a questo stiamo assistendo a un continuo aizzamento delle folle e ragazzi su twitter che è la cloaca del mondo c'è proprio se noi dobbiamo immaginare dobbiamo fare questo sforzo di immaginazione immaginiamoci una discarica ma una discarica dove proprio arrivano oltre che i rifiuti inorganici anche i rifiuti organici delle persone quindi proprio tutto e dobbiamo immaginarci che magari c'è questa questo posto nel mondo in cui arrivano lo schifo di tutti ecco quello è twitter perché quello ragazzi purtroppo è twitter in spesso volentieri e io vedo sotto alcuni tweet magari anche un po ironici la gente che è completamente divisa e sono tifosi torniamo a ripetere va bene ma non è sta c'è p che dici a quando succede agli altri a tanto la juve ruba sempre vabbè ci sta la divisione dei tifosi ma leggo commenti in cui asseriscono che la stampa no ma tanto quando la juve diventa tutto calderone ma stiamo dicendo dove vive in che paese vivete perché se c'è una cosa una una in cui non ammetto io l'ignoranza un'altra deve un'altra opinione perché non è un'opinione è un oggettività è in questo momento che qualsiasi cosa riguardi la juventus è il primo piano e soprattutto se negativa punto vengono fuori notizie ogni cinque minuti dalla procura di torino che dovrebbe essere quantomeno secretato finché non diventa di pubblico dominio perché una volta che un atto viene depositato da un giudice diventa pubblico quindi chiunque può avere accesso agli atti in quel caso ma solo in quel caso non quando le indagini sono ancora in corso è assolutamente riservato tanto spesso volentieri capita durante magari lo vedete quando capitano gli atti i fatti di cronaca nera in cui gli inquirente dicono le indagini sono ancora in corso non possiamo dire niente non è normale che a livello sportivo diventi tutta una barzelletta tutto un circo tutto ai ai asti grazi cioè ma ma se siamo in europa o in tutto tutto rispetto in kazakhistan io io questa roba qui che mi fa impazzire perché ragazzi potete essere di qualsiasi tifo io ho visto la mia squadra scendere in serie b cioè io ho visto la mia squadra perdere innumerevoli finale di champions league lo sconforto sportivo ci sta fa parte del gioco e neanche propedeutico ti fa crescere come persona se lo affronti in maniera ovviamente non da demente ma da essere umano senziente però sta roba qui no sta roba qui no sova qui veramente stancata al punto che una partita come juventus inter io non la sento più non tanto perché non mi interessa più ma perché so come andrà a finire so che si finirà come al solito a tutta la stampa ecco è successo sto cazzo patto è finita intervengono tutti al contrario perché sono capitati la finale di compitare dell'anno scorso è lì come esempio l'errore che voglio dire il gol annullato la juventus in juve salernitana ragazzi dove c'è stato un errore non marchiano un errore gigatronico e non mi interessa che il bar non aveva una fauna una le immagini giuste è impossibile è impensabile che il va non abbia in tutti gli stadi in tutte le partite delle immagini che riguardano tutto il campo ma cosa cazzo stiamo dicendo è passato tutti i cavalleri ragazzi è intervenuto non mi ricordo se gravina o presidente dell'associazione italiana arbitri non ricordo quindi mia colpa dicendo va bene non c'era l'immagine non è l'errore del bar o è chiuso tutto è chiuso tutto io vi chiedo di fare lo sforzo di cambiare i colori della squadra della juventus in altri e non per forza nell'inter anche nel napoli in lazio nella roma avremmo avuto qui la gente che piangeva ancora adesso e non la gente i tifosi che è normale ripeto i tifosi è normale è la stampa che fa schifo avete rotto le spelotas diciamo in spagnolo non è normale non è normale così oltre che a far allontanare un certo tipo di tifosi come come me che sono tifoso molto oggettivo che si lo sfottò lo prende lo dà ma finita lì se deve dire che gioca si gioca male lo dice se quello rigore rigore e si va avanti perché mi hanno sempre insegnato che l'arbitro un essere umano e sbaglia come tu sbagli davanti alla porta come potere sbagli una presa ravito sbagli una chiamata e fine si va avanti senza fare i castelli di complotti che inutile però ci sono un altro una grossissima fetta di rompio la maggioranza di cui ci si infogna dentro diventa si si infermora incredibilmente la 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 situazione diventa tutto un disastro ragazzi non va bene così non va bene ve lo dico non va bene e ultima cosa poi mi taccio e lo dico perché so di risultare molto questa questa roba qui è una un popular opinion della quale potrei anche pentirmene successivamente averla detto però la dico perché se una cosa mi specchia nella mia vita è l'onestà intellettuale con cui affronto i problemi che la vita mi ha sempre messo davanti l'insulto lululato l'insulto proprio razzista la n word o dando della scimmia a una persona di colore che è la stessa cosa se non peggio perché lo dai con un accesso con un accento negativo ovviamente dispregiativo è quello il problema è un insulto razzista appunto nell'ambito dello stadio non cambia però nell'ambito dello stadio spesso e volentieri la gente si ritrova insultare i giocatori a prescindere da colore della pelle insulta per il colore della maglietta della camisetta o perché magari ha fatto una una cavolata ok in più di un'occasione mi ritrovo insultare i miei i miei i giocatori della juventus quindi i miei giocatori da tifoso juventino utilizzando degli epiteti anche sbagliati però non insulto non è che sto denigrando il giocatore no attenzione non sto denigrando la persona di colore mi viene in mente magari quadrato no perché giustamente ho fatto gol poi state espulso dopo la lista che non mi interessa cosa sia successo dopo non sto insultando lo stessi soltando lui come giocatore come se di dessi del figlio di un giocatore che a me sta qui 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 in tutti i posti più scomodi che materazzi da buon giocatore dell'inter riceveva insulti ogni ogni santa partita veniva dato del figlio di p e la mamma e sapevano tutti perfettamente che la mamma l'aveva persa tanti anni fa tutti e lo prendevano insulto perché è ovvio se poi chiaramente ci sono i casi umani in cui per loro è tutto uno stadio e quindi si insulta sempre la persona e queste sono persone che si autosqualificano sia chiaro non devo fare questa specifica non devo fare questa precisazione però è normale ebbe capitato anche a me e non ho non sono nessuno quando andava a giocare a calcio pigliarli insulti quando andava a giocare in trasferta è normale fa parte del gioco fintanto che gli insulti partono nel campo e finiscono nel campo quindi cerchiamo di fare meno i puritani meno i perbenisti sempre salvo poi mettere tutti le eccezioni di questo caso quando riguarda noi lo stadio è sempre stato un posto in cui la gente si sfoga violentemente sbagliato e abbiamo pagato le conseguenze abbiamo cercato di risolvere problema della violenza degli stati ora è molto ridotta rispetto a 15 anni fa a 20 anni fa voi non ve lo ricordate ma chi ha la mia età se ricorda molto bene ora capita un episodio ogni un anno e mezzo la capitava un episodio ogni settimane ok un po diverso stiamo cercando di combattere questa cosa del razzismo eccetera perché purtroppo l'ambito delle curve è un ambito in cui si insinuano si insinua malaffare si insinuano le organizzazioni mafiose non quindi organizzazioni criminali e quindi è chiaro che devi colpire anche soprattutto quegli ambiti ma non facciamo i perbenisti non facciamo quelli che si aiutano soltanto quando a prendere del ndm è il nostro giocatore preferito e quando succede alla squadra avversaria acerima nemica che vorresti vedere fallire domani ma chi se ne frega tanto hanno robato tutta la vita se l'insulto è nell'ambito del voglio insultare quel giocatore e quel giocatore purtroppo lo vedo che purtroppo non per lui purtroppo per me lo vedo che è di colore quindi purtroppo il mio cervello va subito a colpire la cosa più pesante che è quella se vede un giocatore bianco non gli dico ndm che che sotto è magari di sotto la mamma la sorella gli dico che avviene dal meridione in maniera dispregiativa c'è ci sono mille cose che non vengono minimamente calcolate cerchiamo di fare le cose fatte bene cerchiamo di essere onesti con noi stessi chi è senza peccato scaldi la prima pietra qui cito la bibbia io che cito la bibbia ragazzi chi mi seguo in live su twitch dovrebbe iniziare a ridere ma siamo arrivati a un livello veramente di assurdità e l'assurdità purtroppo è data da giornalisti giornalai e istituzioni che non si stanno comportando in a livello o in modo in maniera super partes stanno purtroppo cavalcando l'onda delle situazioni degli eventi e così ve lo dico non va bene io ho detto questo grazie mi taccio che sono 25 minuti che parlo io veramente dove fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate moderatevi negli insulti lo sfottò è sempre a cera questo stavo dicendo lo sfottare sempre ben accetto ovviamente se è uno sfottò di sé per sé se dovete insultare una persona fuori dallo sfottò calcistico perché dovete insultare l'avete bannati come normale penso che sia nella in una società civile chiaramente poi se siete simpatizzati nel certo tipo di mondo vi invito ad andare a vivere lì e non rompere le balle a tutti gli altri quando vive in tranquillità alla prossima se io veramente sono molto vicino abbandonare tutto sono troppo tifoso per non seguire almeno le vicende della mia squadra del cuore ma ormai se bloccarci in maniera molto distratta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti